gentili telespettatori buona giornata al g7 i grandi sette della terra viene approvata l'agenda di giorgia meloni dove ha parlato di fenomeni migratori traffico di esseri umani e flussi illegali la meloni poco prima di rientrare in italia per i fatti dell'emilia romagna rientrata in anticipo ha fatto una conferenza stampa e ha raccontato appunto che i grandi temi come i temi migratori come il piano mattei per l'europa sarebbero stati di interesse dei sette al tavolo e sarebbero stati anche approvati approvati in che senso la meloni dice abbiamo discusso dell'africa della tunisia dell'immigrazione irregolare temi che ci stanno molto a cuore dice il presidente del consiglio italiano sono stata dice in etiopia lì c'è una diga che produce energia per tutta la regione che è stata costruita da italiani noi adottiamo una cooperazione che lascia qualcosa la sfida è far capire agli africani che loro devono sfruttare al meglio le loro risorse e aiutarli durante il vertice l'italia ha presentato il piano mattei per l'africa che ha riscosso molti consensi e proprio sul tema migranti è andato in scena un confronto tra meloni e il direttore dell' fmi il fondo monetario italiano e la presidente della commissione europea ursula von der leyen sulla tunisia è una situazione difficilissima una fragilità politica evidente dice è un rischio di fallimento finanziario dietro l'angolo abbiamo una trattativa tra il fondo monetario internazionale la tunisia di fatto bloccata c'è una certa rigidità dell' fmi di fronte al fatto che non si sono ottenute dal presidente tunisino tutte le garanzie che sarebbero necessarie è comprensibile da un lato e dall'altro siamo sicuri che questa rigidità sia la strada migliore se questo governo va a casa noi abbiamo presenti quale possono essere le alternative dice meloni però il punto è che i sette cosa potevano dire la meloni presenta un piano non potevano dire non ci interessa ma che ce frega a noi perché nei grandi sette della terra ci sono paesi di tutto il mondo sono i paesi più importanti economicamente naturalmente sul piano mattei per l'africa sono tutti interessati ma sono interessati a parole perché il piano mattei per l'africa vuol dire sborsare soldi per far sviluppare il nord dell'africa per lo meno collaborazioni ma naturalmente questi paesi hanno detto sì ma era una di quelle cose telefonate nel senso che dire sì intorno a un tavolo e dire interessantissimo non c'è nessun problema il punto è che dopo che questi sette grandi della terra hanno approvato l'agenda meloni dice sì interessante tutto il resto dal sì interessante al fare il piano mattei che comporta che comporta che è una sorta di piano marshall per l'africa con non so quanti e quanti miliardi di euro la vedo un po la vedo un po difficile ecco il piano mattei per l'africa è un qualcosa che secondo me non avverrà mai come non avverrà mai un piano di europeo per fermare le partenze ecco l'europa potrà essere sensibilizzata l'europa potrà dire povera italia come ci dispiace siamo con voi interessanti le vostre proposte ma oltre questo non si va ecco la minosa la milioni sa perfettamente che il che la soluzione è ben altro la soluzione è che l'italia da sola prenda accordi con con la tunisia e con la Libia per fare un blocco navale però voi sapete che ci sono le elezioni europee ai primi di giugno del 2024 la meloni vuole vincerle con i conservatori europei e con il ppe pertanto non deve fare cose che possano realmente farle perdere le elezioni in europa perché se non c'è l'alleanza del ppe non si possono vincere e per preservare questa possibile alleanza col ppe non bisogna commettere passi falsi come un blocco navale che potrebbe far finire i sogni di vincere le elezioni in europa e allora il blocco navale non se ne parla più il piano mattei l'europa deve fare l'europa deve pensare ma l'europa non fa assolutamente nulla a parole fortissima ma non fa assolutamente nulla l'altro punto è che la meloni sta cercando di far partecipe macron perché un personaggio come macron che vuole essere sempre al centro dell'attenzione essere vuole essere il primo della classe ecco per intenderci è il classico personaggio che vuole essere il primo della classe non solo negli studi ma anche il primo quando si esce quando si ecco lui vuole essere il capo dell'europa e la meloni per cercare di convincere macron a fare qualcosa italia francia in tunisia e libia sta cercando di far sentire macron importante e la francia la grande francia perché insieme non faccio visto che macron ha tutte queste paure che la meloni possa diventare importante per tunisia e libia sia per gli aspetti economici ma anche per gli aspetti personali lui deve fare il primo della classe e per gli aspetti economici geopolitici allora la meloni sta pensando di di portare macron dalla sua parte facendolo sentire importante no prendiamo insieme accordi con la tunisia così che macron pensi per piuttosto che farlo fare alla meloni da sola così poi diventa lei magari il capo dell'europa lo facciamo insieme meglio insieme che questa qua da sola e allora micro macron ci sta facendo un pensierino quello di diventare importante insieme alla meloni quindi la paura che amelo che a macron che la meloni possa diventare più importante di lui dice meglio far qualcosa con la meloni che 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 la possibilità che lei lo faccia da sola vedremo quello che succederà grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a presto